Buonasera sulla scena politica ancora una volta l'ombra delle questioni giudiziarie di Berlusconi e questo è il tema del giorno perché oggi sono state diffuse le motivazioni della condanna per la questione Unipol ricordate la famosa registrazione della telefonata di Fassino con Consorte allora abbiamo una banca che finì prima che dai magistrati con la registrazione da Berlusconi e da lì da casa Berlusconi arrivò al giornale dove fu sparata in prima pagina per quella vicenda Berlusconi è stato condannato e oggi si è saputo che praticamente non poteva essere pubblicata dal giornale quell'intercettazione senza il placet, l'indicazione diretta dello stesso Berlusconi perché questo è il motivo della condanna che ha suscitato ovviamente la protesta immediata di Falchi e Colombe del PDL ma la questione è che è iniziata simbolicamente una serie di giornate, 15 per la precisione che porteranno al passaggio più atteso il 19 di questo mese, tra 15 giorni appunto, la Corte Costituzionale decide se davvero c'era il legittimo impedimento in una fase del processo d'appello Mediaset che non fu rispettato dalla Corte in quel caso il processo deve riprendere da capo nella sua seconda istanza e quindi poi scatterebbero inevitabilmente i tempi di prescrizione se è così, tra virgolette, la Corte Costituzionale aiuterà il Cavaliere le nubi giudiziarie si allontaneranno e se no la condanna definitiva si fa molto più vicina e con essa evidentemente l'uscita di scena secondo la giustizia del Cavaliere che verrebbe interdetto da ogni attività pubblica questa è la posta in palio, per questo il nervosismo cresce in queste giornate ma ovviamente c'è una fibrillazione che riguarda la politica in generale il PD ha riunito per la prima volta nell'era, chiamiamola così, nell'era Epifani la direzione, la direzione ancora una volta ha verificato che ci sono tensioni sulla questione del presidenzialismo il congresso si farà entro l'anno, non forse all'inizio dell'autunno come era stato deciso e poi però ci sono altri due movimenti che sono in tensione il Movimento 5 Stelle in tensione nei confronti dell'informazione una nuova, chiamiamola, offensiva di primavera di Grillo attraverso l'arma scherzosa, semiseria ma anche efficace a suo modo di un sondaggio sul blog su quali sono le trasmissioni televisive i conduttori e i telegiornali più faziosi un sondaggio che prende le mosse ovviamente dalla polemica forte di Grillo nei confronti delle trasmissioni che hanno parlato del Movimento 5 Stelle ma più forte è la fibrillazione della Lega con Bossi all'attacco di Maroni ha distrutto il Movimento e Maroni che parla di polemiche dannose e spiacevoli soprattutto alla vigilia dei ballottaggi in un momento delicato per la politica e per la Lega stessa ma poi c'è l'ILVA, commissariamento deciso per tre anni e a guidare però l'ILVA sarà da commissario Enrico Bondi i RIVA non vengono allontanati dalla proprietà restano soci di riferimento e a loro tornerà tra tre anni l'azienda stessa questa è la scelta fatta dal governo, dal ministro Zanonato e da Orlando che è l'altro ministero, quello dell'ambiente poi un tema che riguarda molti italiani che si sono avvicinati all'uso della sigaretta elettronica sarà vietata secondo l'indicazione del Consiglio Superiore di Sanità in tutti i luoghi pubblici come succede per il fumo, quello chiamiamolo così tradizionale poi però ci sono altri fatti di cui dovremo parlare e andare a vedere come la Turchia vive una fase di tentativo di riavvicinamento tra le parti ma anche stasera lo documenteremo piazza Taksim di Istanbul si sta riempiendo di manifestanti tempo di vedere i nostri titoli il ruolo di Berlusconi nella vicenda dell'intercettazione Fassino-Consorte fu decisivo il Cavaliere decise la pubblicazione per interessi elettorali così le motivazioni della condanna a un anno per il Cavaliere nel processo Unipul BNL spiegazione grottesca insorge il PDL il centrodestra attende ora il 19 giugno il giorno del giudizio la decisione è della consulta sul legittimo impedimento nel processo Mediaset che potrebbe far tornare quella vicenda al primo grado di giudizio Direzione stavolta a porte chiuse archiviato lo streaming per il Partito Democratico è la prima con Epifani in segretario che annuncia che il congresso si tratta di qualche mese si farà comunque entro l'anno dopo il buon risultato amministrativo si discute di asset interni di riforma istituzionale tema che vede nel partito posizioni molto diversificate Grillo sull'informazione lancia via web una consultazione per assegnare il microfono di legno al conduttore, al Tg al programma più fazioso ma intanto è proprio un esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Fico che è il candidato più accreditato per la guida della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla RAI Guerra aperta all'interno della Lega in un'intervista Bossi definisce Maroni un traditore che ha distrutto il Movimento è l'ora di fare i conti aggiunge il capo del carroccio resto ancora io e a stretto giro la replica del segretario non sono per niente preoccupato quel che dice Bossi danneggia solo il nostro Movimento in questi giorni delicati di ballottaggio Il governo ha deciso sarà Enrico Bondi il commissario straordinario dovrà risanare l'ILVA realizzando anche le bonifiche previste dall'autorizzazione di impatto ambientale il mandato di 12 mesi rinnovabile fino a 3 anni il decreto di Palazzo Chigi lascia la famiglia Riva azionista di riferimento della Ciaierie Il Consiglio Superiore della Sanità suggerisce ma in realtà sarà un suggerimento da accogliere senza possibilità di dubbio di vietare le sigarette elettroniche in tutti i luoghi pubblici una misura si spiega soprattutto per difendere la salute dei giovani le sigarette elettroniche sono un fenomeno di costume che muove grandi interessi economici e peraltro danneggia anche le casse dello Stato con il calo nella vendita dei tabacchi ma non tutto il male in questo caso viene per nuocere per dire il vero Buonasera quindi la motivazione della condanna a un anno di Berlusconi per la vicenda Unipol-BNL è di nuovo benzina sul fuoco delle polemiche ma polemiche che comunque si registrerebbero perché il conto la rovescia a meno 15 in quello che è davvero il giorno del giudizio quello in cui la Corte Costituzionale dirà la sua parola definitiva sull'annosa vicenda del legittimo impedimento se desse ragione alle tesi dei legali del Cavaliere il processo Mediaset che è già arrivato alla sentenza d'appello dovrebbe tornare indietro se no vediamo Silvio Berlusconi diede il via libera per convenienza politica la pubblicazione della telefonata tra Fassino e Consorte le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano che tre mesi fa ha condannato ad un anno l'ex premier per concorso in rivelazione del segreto istruttorio sono un nuovo colpo la stabilità del governo la storia è nota nell'estate del 2005 quella dei furbetti delle scalate bancarie l'allora segretario di S. Fassino parla al telefono con Giovanni Consorte numero uno di Unipol impegnato ad acquisire il controllo della BNL allora abbiamo una banca la frase passata la storia intercettata nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata è finita sulla prima pagina del giornale a fine dicembre di quell'anno a pochi mesi dalle elezioni quella intercettazione coperta dal segreto istruttorio secondo i giudici venne sfruttata politicamente per danneggiare l'avversario senza l'apporto in termini di concorso morale di Silvio Berlusconi la pubblicazione non si sarebbe realizzata una spiegazione grottesca insorge il PDL incredibile ma vero stavolta sono i giudici stessi a spiegare che hanno condannato Berlusconi per ragioni politiche protesta Renato Brunetta motivazioni immotivate fondate su un fantomatico concorso morale aggiunge Renato Schifani e se i parlamentari avvocati Ghedini e Longo vedono confermata l'impossibilità di celebrare a Milano i processi a Berlusconi da tutto il PDL presunti falchi e presunte colombe assieme è un coro unanime di sdegno fino al reagiremo con forza di Daniela Santanchè il leader tornato oggi a Roma dopo un'assenza ai dieci giorni per ora non commenta ma chi lo ha sentito lo riscrive furioso per quella che considera una nuova rottura della tregua su cui si doveva fondare il governo delle larghe intese forse già stasera ci sarà un vertice di emergenza a Palazzo Grazioni non è in discussione il sostegno al governo ripetono dai due fronti interni al partito ma certo questo è un altro colpo e la data segnata in rosso il 19 giugno si avvicina secondo i tantanti partito è quello lo spartiacque per il futuro del governo quel giorno la Corte Costituzionale si dovrebbe pronunciare sul legittimo impedimento sollevato dalla difesa di Berlusconi e non concesso durante il processo Mediaset conclusosi poi con una condanna confermata in appello se il giudizio della consulta dovesse essere favorevole all'ex premier potrebbe facilitare l'annullamento della sentenza in Cassazione in caso contrario la conferma della condanna con conseguente interdizione dai ruoli pubblici renderebbe più precaria la vita del governo e cosa succede nell'altro principale partito quello che è stato l'avversario in questi anni del PDL e adesso in realtà ne è l'alleato il principale alleato di governo una direzione che a quanto pare non ha avuto le tensioni di quelle precedenti alla prima dell'era Epifani ma comunque le divisioni ci sono e restano soprattutto sul tema del presidenzialismo tornano le porte chiuse altro che streaming nella riunione della direzione PD in corso da un'ora e poco più la prima dell'era Epifani dopo le vicende dilanianti della non vittoria di febbraio e dello sgrettolamento del partito nelle elezioni del capo dello Stato con la ferita dei 101 ancora segreti franchi tiratori antiprodi ridare un'identità forte ai democrat e alla missione del segretario tornare ad essere spera Epifani un partito dove si decide una linea maggioranza e tutti la sostengono vasto programma quando le divisioni e le guerre tra correnti sono pane quotidiano crema l'umore nel partito la scelta del governo dell'argentese lo dilani al tema del presidenzialismo Renzi e Veltroni a favore Epifani possibilista D'Alema che frena Labindi sulle barricate Fioroni che chiede un referendum tra gli iscritti è importante sentire la nostra base e avere un orientamento condiviso perché un partito su molte cose può essere diviso ma non su una scelta definitiva della forma di governo vanno nominati gli organismi dirigenti a partire dalla segreteria 15 componenti di tutte le correnti la proposta di Epifani Luca Lotti e Deborah Serracchiani rappresentanza dei renziani il sindaco di Firenze voleva per i suoi l'incarico dell'organizzazione ma difficilmente lo otterrà va definito poi il percorso per il congresso che slitterà di qualche mese ma si terrà entro l'anno con la corso alla segreteria ancora senza concorrenti schierati io candidato non mi pare questione prioritaria con i problemi del paese dice Renzi arrivando tanto più che come propone Epifani si vuole ora separare il ruolo di premier da quello di segretario Renzi rimane seduto in fondo alla sala durante la direzione non parla lascia la riunione al termine dell'intervento di Epifani il partito riparte dal buon risultato delle amministrative oltre le più rose previsioni è l'unico ottimismo del segretario protempore che ammette i tanti dubbi sulla tenuta del governo Letta per noi serve un mandato di due anni siamo un partito responsabile sostiene ma se il centro-destra fa saltare l'esecutivo dobbiamo essere pronti dice siamo pronti a tutto perché il problema è fare i conti con l'affidabilità di Berlusconi comunque no il porcellum corretto bisogna fare un'altra legge elettorale insiste Epifani sulle riforme governo equirinale restino fuori dalla mischia e fa una puntata molto critica sul passato dovevamo dice votare nella primavera 2012 dopo la prima terapia d'urto di Monti agguerrito contro l'informazione che secondo la sua opinione va gravemente sistematicamente contro il movimento 5 stelle Beppe Grillo lancia un sondaggio attraverso il suo blog il microfono di legno non è l'ennesimo premio estivo di quelli che spuntano come funghi nell'afa dell'estate per promuovere località di villeggiatura e premiare stelle e stelline della televisione qui le stelle sono rigorosamente 5 visto che il microfono di legno è il sondaggio online lanciato da Beppe Grillo sul suo blog a coronamento della sua polemica contro l'informazione televisiva si vota infatti la rete il Tg il conduttore più fazioso al sondaggio online da questa mattina stanno partecipando migliaia di persone più delle quirinarie si chiude domani dopo pranzo in classifica chi più chi meno ci sono tutti Rai Mediaset La7 Sky conduttori famosi compresi l'informazione in Italia è manipolata filtrata schierata adulterata la massima responsabilità e delle televisioni e di chi ne fa parte scrive oggi Grillo sul blog la decisione di spedire i parlamentari del movimento ai tanto odiati toll show evidentemente non basta anche se gli stessi utenti del web hanno valutato molto positivamente le partecipazioni sulla 7 del vicepresidente 5 stelle della camera di Maio ad 8 e mezzo e quella di Nicola Mor a piazza pulita proprio il programma di Formigli è finito nel mirino di Grillo che ha cercato di impedire le riprese del comizio di ieri sera in Sicilia ci riprendono per fare ascolti così vendono cacciotte attacca Grillo una scena molto simile se era già vista sempre ieri questa volta nel mirino un operatore del programma Rai a Gorà alla presidenza della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai punta il movimento 5 stelle domenica ospite di Lucia Annunziata Roberto Fico fedelissimo di Grillo ha ufficializzato la sua candidatura un accordo in questo senso sarebbe stato raggiunto tra i capigruppo della maggioranza Schifani e Zanda al Copa Siril Comitato per i Servizi Segreti rivendicato anche questo dai grillini andrebbe invece un parlamentare di sinistra e libertà 5 stelle che a Montecitorio hanno un nuovo portavoce Riccardo Nuti prende il posto di Roberta Lombardi che termina così i suoi tre mesi di mandato previsti dal regolamento interno nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere anche il successore di Vito Crimi al Senato tra i candidati più accreditati il senatore Nicola Morra per la precisione al Copa Siril dovrebbe andare un esponente della Lega secondo le ultime trattative un esponente di Sel alla giunta per le elezioni quella tanto attesa nella sua prima convocazione perché anche lì c'è un tema che riguarda Berlusconi quello della ineleggibilità andiamo a vedere però come a proposito di Lega il movimento che fu fondato da Umberto Bossi vive la più clamorosa delle spaccature un'intervista a Gad Lerner su Repubblica di Umberto Bossi rimette in discussione Maroni con parole durissime ha distrutto la Lega non sono per nulla preoccupato sono tranquillissimo l'unico effetto che hanno queste interviste è quello di danneggiare la Lega e di contribuire a rendere più difficile la vittoria nei ballottaggi così Roberto Maroni risponde a Bossi che continua ad attaccarlo pesantemente attraverso i giornali prima del suo intervento all'assemblea della Confindustria di Lecco il segretario federale del Carroccio si dice determinato ad andare avanti sulla linea tracciata dal congresso e sulla creazione della macroregione che Bossi ha definito irrealizzabile e lascia suspense sul perché dopo tanto silenzio Bossi torna a farsi sentire ma lei lo stia facendo sì 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 me lo sono spiegato ormai vecchio leader gioca l'attacco annuncia di volesse riprendere il movimento nonostante il congresso abbia eletto nuovo segretario Maroni dichiara di essere lui il capo della Lega in due interviste venerdì sul fatto quotidiano e oggi sulla Repubblica il senatore non usa mezzi termini e lancia l'affondo al suo successore Maroni dice come capo della Lega non è riconosciuto distrutto il movimento pensa solo alle poltrone ed è un traditore come ha dimostrato nel 1994 quando abbiamo rotto con Berlusconi Maroni dice ancora il senatore non ha gli ideali dei padani quelli che hanno costruito e portato in alto il movimento il senatore non accetta di restare nell'anonimato proprio lui che ha fondato la Lega Nord e l'ha portata pure al governo non sopporta neppure le accuse che vengono rivolte a lui e alla sua famiglia io dice nell'intervista Lerner alla presenza della moglie Emanuela Marrone nella loro casa di gemonio non ho mai preso soldi dal partito ha ripetuto più volte se non per militanza e disonesti sono altri non io il vecchio leader denuncia anche che gli hanno tolto le guardie del corpo e l'autista per cercare di allontanarlo dai militanti ma promette che non mollerà a me non mi ammazzano debbo rimettermi per forza alla guida del partito perché il capo ripete più volte sono ancora io la guerra ormai è dichiarata e siamo alla vicenda dell'Ilva dopo la clamorosa importante sentenza d'appello di ieri sull'Eternet adesso l'attenzione di tutti sul tema salute nocività ma anche lavoro si sposta ancora una volta sull'azienda siderurgica che come sapete ha vissuto in questi ultimi mesi a Taranto un vero e proprio calvario dal punto di vista delle responsabilità dei problemi delle sentenze oggi il governo ha deciso commissariamento ma senza esproprio alla famiglia Riva l'Ilva è commissariata per decreto e il commissario Enrico Bondi va esattamente come doveva e come previsto che significa? innanzitutto che si evita il fallimento e molti lo davano ormai per probabile basti pensare che da qualche giorno la società non sapeva come pagare il carburante con cui far entrare in porto le navi ormeggiate a largo le carte di credito dei dirigenti giravoce siano state bloccate solo poche ore fa le banche hanno riattivato qualche linea di credito l'Ilva per capirci era arrivata al punto di non ritorno così toccherà a lui a Enrico Bondi classe 1934 la retino riportarla di qua all'Ilva era arrivata in aprile come amministratore delegato nominato proprio dalla famiglia Riva la quale ora sottrae però la gestione non c'è grande rottura ma continuità per quanto adeguata ai veri compromessi che iniziano ora soprattutto perché il governo ha trovato forse l'unico modo possibile per scuotere l'Ilva e sottrarla all'impiccio giudiziario non c'è dubbio Bondi sia un esperto di risanamenti finanziari anzi di recuperi dal baratro vedi Parmalat tutti se lo ricordano però c'è riuscito anche a Montedison e Lucchini stessa materia pesante dell'Ilva la decisione di sceglierlo però non è andata sul velluto il governo si è mosso rapidamente doveva farlo ma sul commissariamento ha avuto confronti serrati al PDL questa scelta non piaceva e non piace la tollera forse perché non c'è niente di meglio e comunque si crea un precedente cioè si traccerebbe un solco per molte aziende dissestate cosa che Federacciai giudica pericolosissima ma obiettivamente è difficile che dica il contrario di fatto Bondi che sarà affiancato da un comitato di esperti parte come commissario certo per un anno rinnovabile per due volte quindi per un massimo di 36 mesi totali tre anni al termine dei quali l'azienda tornerà a Eriva in che condizioni impossibile dirlo Taranto per mesi ha mischiato tensione sociali lutti blocchi giudiziari arresti eccellenti senza contare un primo salva Eriva che pur nella sua costituzionalità non ha proprio funzionato ieri il GIP Todisco aveva concesso all'Iriva la facoltà dell'uso degli impianti a caldo pur confermandone il sequestro che risale a luglio 2012 quando in una manciata di ore a Palazzo Chigi sul tavolo sono arrivati anche i risultati della terza ispezione che ha confermato il mancato rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale cioè si inquina ancora si è scelta allora la strada più rapida dalle decisioni sull'Ilva dipende il futuro della siderurgia italiana ha detto il ministro Zanonato siderurgia significa industria e industria ora significa molto di quel che c'è da salvare chiudere l'Ilva avrebbe un costo economico di 8 miliardi di euro all'anno su quell'umano nessuno ha il coraggio di esprimersi già la salute è uno dei temi della nostra epoca la salute da preservare nei luoghi pubblici ad esempio la lotta contro il fumo passivo e poi adesso la nuova lotta perché le sigarette elettroniche scongiurano i rischi no secondo il consiglio superiore della sanità che ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in tutti i luoghi pubblici a cominciare comunque più perentoriamente dalle scuole vietato fumare a scuola no non la cicca che ci si fa di nascosto al bagno quella è già fuori legge per l'appunto al bando presto potrebbe finire anche la sigaretta elettronica almeno questo è il suggerimento dell'istituto superiore di sanità anche se poi toccherà al ministro della salute decidere c'è chi dice che fa male chi no crei dipendenza o meno l'argomento è controverso ma sono ancora pochissimi gli studi sul tema la notizia del divieto scolastico tuttavia non particolarmente sconvolgente cela una guerra ormai invece niente affatto nascosta sul business e sulla salute di questo dispositivo brevetato nel 2003 in Cina e ormai diffuso in tutto il mondo Italia compresa ovviamente dove in un paio d'anni il fenomeno degli svapatori così si chiamano i fumatori elettronici è esploso e in tempi di crisi tutti si sono accorti che è stato uno dei pochi a farlo insieme ai comprooro e ai videopoker 2000 negozi aperti un giro d'affari quantificato intorno ai 100 milioni di euro ma soprattutto un mancato introito per il fisco di 200 milioni di euro perché fra i 500 mila svapatori la stragrande maggioranza di loro prima era un normale fumatore che spendeva una media di 70-100 euro al mese soldi che ora dopo l'iniziale investimento nella sigaretta elettronica non esattamente a buon mercato perché può costare fino a 230 euro invece risparmia il problema è che essendo lo Stato titolare del monopolio dei tabacchi anche l'erario incassa meno 200 milioni di euro per l'esattezza nel 2012 e allora ecco la polemica non ancora risolta sulla natura delle sigarette elettroniche sono comunque tabacchi e come tali da tassare o sono presidi farmaceutici soggetti quindi ad un'imposta decisamente più bassa vietarne l'uso a scuola come nei locali pubblici in generale fa pensare che la scelta propenda più verso l'ipotesi tabacchi con buona pace dei produttori e soprattutto dei rivenditori preoccupatissimi per uno dei pochi business in ascesa in questo periodo ma con gioia del nostro fisco sempre a caccia di risorse c'è una svolta forse una svolta grave e importante sulla scena internazionale poco fa il ministro degli esteri francesi Lohan Fabius ha detto che la Francia ha prove certe dell'uso ripetuto anche se circoscritto di gas sarin cioè il gas nervino da parte degli uomini dell'esercito regolare siriano agli ordini del presidente Bashir Assad quindi il regime di Damasco ha fatto uso di armi chimiche e questo comporta la possibilità di adire tutte le opzioni possibili ha detto Fabius insomma si può anche pensare a una forza multinazionale che intervenga nella guerra civile siriana tra l'altro oggi c'è stato un episodio alla frontiera al confine scambi di colpi tra guardie di confine da una parte e dall'altra tra la Siria e la Turchia già la Turchia l'importante paese confinante con la Siria che ha tentato come si sa di condizionare il corso di quella guerra civile con l'aiuto promesso da Erdogan ai ribelli ma la Turchia ha i problemi suoi questa sera andiamo in diretta ancora una volta da piazza Taksim anche questa sera la piazza si è riempita come vedete di migliaia di manifestanti che urlano per il quinto giorno consecutivo slogan contro Erdogan contro il governo come succede stasera anche secondo le segnalazioni in varie altre città tutto questo nonostante le scuse che sono state porte oggi dal vice di Erdogan alle numerosissime persone che sono rimaste ferite negli ultimi giorni negli scontri con le forze dell'ordine e ci sono timori di scontri anche stasera anche se è giusto dirlo anche stasera vedendo le immagini da piazza Taksim quello che si vede e quella che si sente è una folla ordinata anche se come vedete sempre più crescente la piazza si va ancora una volta riempiendo ma cosa è successo oggi vediamo dopo quasi una settimana di rivolte dura repressione tre morti e oltre 2000 feriti secondo Amnesty il premier turco Erdogan affida al suo vice la carta della pacificazione lui infatti non c'è è in viaggio nel Maghreb la distanza necessaria forse per vedere da lontano che 600 alberi che i manifestanti volevano salvare dall'abbattimento erano in realtà soprattutto un pretesto l'esito è stata una crisi che in Turchia non si vedeva da molto tempo insomma è una protesta da non sottovalutare deve avere pensato Erdogan che ha chiesto al vice premier di chiedere scusa anche se formalmente solo a chi ha subito violenze a causa della propria sensibilità ambientale la protesta era legittima e patriottica ha detto Bulent Arinj nel corso di una conferenza stampa e ha aggiunto il governo ha imparato la lezione non abbiamo il diritto e non possiamo permetterci di ignorare la gente le democrazie non possono esistere senza l'opposizione una mossa che arriva poco dopo la notizia della morte di un terzo manifestante ucciso da Antiochia da un colpo di pistola partito secondo alcune testimonianze che però non è possibile verificare da un blindato della polizia il secondo un ventenne è stato invece travolto da un taxi lanciato sulla folla mentre la morte celebrale della prima vittima è stata anch'essa provocata da un proiettile fatti gravissimi a cui bisogna aggiungere le tante persone ferite al volto dai proiettili di gomme e fumogeni sparati ad altezza uomo e preoccupano le condizioni di una ragazza in coma ricoverata in uno degli ospedali della capitale scuse che l'esecutivo vorrebbe portassero alla fine delle manifestazioni anche se a guardare le immagini di questa sera delle migliaia di persone che si stanno assiepando nelle piazze di tutto il paese l'intento non sembra essere stato raggiunto anche perché la protesta è andata crescendo di giorno in giorno e l'uso della forza da parte della polizia ha fatto in realtà da collante ai ragazzi infatti si sono uniti adesso i lavoratori del pubblico impiego che attraverso il sindacato che ne rappresenta una larga fetta hanno proclamato 48 ore di sciopero forse ricorderete una delle ultime puntate di servizio pubblico la sfida molto forte dal punto di vista dialettico tra Daniela Santanchè e Marco Travaglio sono gli ospiti che ritroveremo anche stasera davanti a Lilli Gruber in 8 e mezzo ci fermiamo infine la solita occhiata alle borse Milano ha chiuso bene come il resto d'Europa oggi più 0,45 lo spread è sceso a 255 sembrava tutto andare a gonfie vele anche dall'altra parte dell'Atlantico ma Wall Street è andata in negativo e in questo momento il Dow Jones perde lo 0,78% ancora di più il Nasdaq che è sotto dello 0,80% in questo momento è tutto allora come vi ho già anticipato vi lascio a 8 e mezzo dove ospiti di Lilli Gruber sono Daniela Santanchè e Marco Travaglio buonasera a domani grazie a tutti 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 Grazie a tutti.